Questa volta va chianti una storia che era una forse da quei che venivano chianti a più sé. La storia della gamba russa. La storiella che diceva nei bagaiet per fare delle lettere, perché magari diceva, va che se ti mette in giù la gamba russa, va che se ti mette in grado in giù la gamba russa. Insomma, questa gamba russa era sempre dappertutto. Adesso va chianti come calè. Ma devo sapere che ai tempi andrei, quel che facevano i paesi. In inverno era un po' da fare, perché al terreno erano già preparati, magari erano anche a seminare. Alla sera erano molto strana andando all'usteria, stavano là insieme amici, bevano al vento, giocavano a cart, facevano anche i cantati che duravano anche fino a mezzanotte, la una, tre sentite a mezzo chilometro da distanza dal tanto che cantavano fuori. E poi dopo andavano qua. I donne invece, che erano da fare tutto il giorno, tutto l'anno erano in sci, che erano tanti bagai che erano anche in fila, dovevano fare la bugata, dovevano mettere qui, dovevano fare da mangiare, dovevano staccare l'occhio, che avevano sempre bisogno di quei cose. Quando arrivava la sera, sarebbe stata besta lì insieme a parlare. E invece niente da fare, perché questi che andavano all'usteria, le donne erano sempre lì da per loro e si stufivano a un certo punto. indietro da questi che abitano in da sterz Kurtil, e si trova e dicevano, che si stufide insomma, io non ho mai accaduto. Adesso magari da parlare da un qualcosa, anche da loro che magari succede, è questo che ci appa e va via. Adesso si stufissi proprio, e qui altrimenti anche noi, insomma se non puoi più, facciamo un qualcosa. che viene in mente da mettersi insieme a fare il risotto con la rusticciata, e si sale la rusticciata. All'è la carne dal Purcell, fa da rosola a tuquerite, insieme un po' da cigola, e poi mangiare insieme al risotto. Sì sì dai, se mettono d'accordo, per domani, esce a me, quando vanno via, e vanno in stalla, insieme, e mangiare un risotto con la rusticciata. difatti la sera dopo, loro erano belle che preparate i scorsi, quanti uomini erano giù a andare, ma vanno da questi chi, allora fa tardi. L'era fa tardi, e si accorge che andrò a fare quelle cose. L'è stata lì da dire dalla porta, e l'ha sentito, che dove andrò a mangiare la rusticciata in stalla. La rusticciata, era una roba che facevano sempre, perché mangiavano più se che altro, al minestrano tutto il dastracchino, allora quasi un piatto alla festa. lui ha detto, ah sì, noi abbiamo la rusticciata, sì, beveremo anche un po' di vino, e questi chi invece fanno festa, quando se no. Adesso, guarda di sì a quei là, alla rusticciata, e gli ha detto, ma io non do, ma si sa fanno stasera. Fanno la rusticciata, e hanno migliorato il gusto, che vengono bene in vita, anche dalla stalla a mangiare. Ma non lo fanno fare con la festa qui. No, eh? No, 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 ma facciamo un bel scherzo adesso. E di fatti, dove andano questi chi, al va su, in stanza, al derro al casseton, e il tira a fare una bella calzetta, lunga da lana, dalla sua donna rusa, e la porta giù. Oh, oh, l'ho trovata, l'ho trovata la calzetta, cià, 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 dai, che quei là arrivano, se no. Avevano sui con la scala, da sulla via, dalla stalla, dove cagliano, al fine. E si preparano lì, stanno cittuciti, perché non vengono a sentire, tante donne, andano dentro, andano dalla stalla, mettono qui, mettono lì, al risotto, preparano i piatti, e loro erano da sola, erano da sola, e si facevano. Poi, ho trovato la calzetta, e l'ho messo. E intanto, scendono giù dall'arbusier, per vedere se l'andrea fa, al si sale l'arbusier, adesso ho trovato la botola, allora, spurtellino, da due, che buttavano giù al fen, in dalla stalla, per dare da mangiare i pacchi. Quindi, guardano giù, e questi, che ciappano una forchetta, da risotto, mamma, male buon, male buon. La seconda è, che non è riuscita a mangiare. Perché? Ho sentito, una usda da sola, che ha detto, Don, Don, andè a dormire, che, a ghiac, già da morire. E se è vero, non è credito, che il signor, ha mandato la dì, guardino lì, perché aveva giù una gamba, e fru, che aveva giù la gamba rosa, dall'arbusier. Questi, hanno un ciappano stramissimo, diventa bianco, diventa ruso, via chi scappa a fare, non andare a casa, in Saradenta, con la ciaf, dentro da luce, perché un ciappano stramissimo, che finiva più, se non mi accorgi, che era in quel anno. io, ma, intanto, sono fai, non andare giù, a ridere a me, in Marte, a si mangiare il risotto, con la rusticciata, e poi dopo, in andare a cano. Al di dopo, la gran chiantata è il suo don, e il suo don, un po' salinciapata, e poi dopo però, avesse divertire anche loro, quando hanno pensato, ma sei stascemi, ma la gamba rosa, perché la faceva stramì? Comunque, se Ruf senti una più altra storia, che è una playlist, che è la storia della Gibiana, che è quella del Tello di Tello Death, che è la storia dell'Uf, che ne sono un bel po', insomma. Ogni tanna metti su, vi una nuova, e speri che questa chi la vi piace da, sarà sempre un altro modo, fino a sapere, eh? Ciao! Fiii bravi, ne?